e cose brutte cari amici cose brutte io qua sono a Rignano Flaminio vedete questo è un euro spin una volta era un euro spin adesso vedete come è ridotto sono in corso le indagini dicono che ci sia uno scontro tra l'andrangheta e la camorra e questo euro spin è stato distrutto vedete che è distrutto lo vedete è un euro spin distrutto a Rignano Flaminio perché l'andrangheta e la camorra non si vogliono bene sono in corso le indagini sono in corso chissà perché l'andrangheta e camorra non si vogliono bene dovrebbero essere tutti uniti tutti uniti vorrebbero essere e invece non si vogliono bene il proverbio che dice il proverbio che tra i due litiganti il terzo code il terzo chi è è lo Stato lo Stato lo Stato che fa le indagini c'è la polizia giudiziaria c'è la magistratura ci sono le patrie galere e poi e poi questi questi signori vengono identificati processati e spediti spediti nelle patrie galere nelle patrie galere c'è colazione pranzo in cina insomma vitto alloggio l'unica cosa che manca nelle patrie galere sono i contributi i contributi per la pensione capito ecco qua era un euro spin tanto bello era tanto bello questo euro spin ma pare che che l'andrangheta non fosse d'accordo non fosse d'accordo chissà perché chissà perché ci dovrebbero volere bene per fare una santa alleanza fare invece no se fanno la guerra fra di loro e per cui tra i due litiganti il terzo code il terzo c'è le patrie galere cari amici non so se mi sono spiegato guardate 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 le patrie galere cari amici le patrie galere ok cari amici io sono Serafino Massoni sono qua a Rignano Flaminio ok 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 ok